Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside, un video diverso dagli altri, un video di presentazione nel quale noi di Milan Inside vogliamo mostrarci, presentarci e spiegarvi che cosa potete trovare qui sul canale YouTube di Milan Inside e su tutti i profili social che potete trovare nel link in descrizione. Vi prego di mettere un like se vi piace il video e di seguirci su tutti i social e di iscrivervi al canale, attivare la campanella in maniera che vi arrivino le notifiche per restare costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan e i colori rossonelli. Io mi presento, mi chiamo Giuseppe, ho 29 anni e sono un tifoso innamorato pazzo del Milan, innamorato pazzo dei colori rossoneri, che ha cominciato a seguire la squadra più bella del mondo alla teneretà di 6 anni, dal primo momento in cui ha visto una partita con quelle splendide maglie di girovagare per il campo. Inutile spiegare i motivi perché staremmo qui a parlare per due o tre giorni di seguito dei motivi per cui una persona può amare in Milan. Ognuno ha una motivazione diversa e probabilmente se ci mettessimo a parlare ognuno avrebbe ragione. Quello che vi voglio spiegare in questo video è ciò che potrete ricevere se ci seguirete, se ci darete l'opportunità di entrare nelle vostre case, se ci darete l'opportunità di farvi compagnia. Milan Inside è un gruppo di ragazzi che nasce accomunati chiaramente dall'amore per il Milan e che ha nelle intenzioni quelle di crescere, di tenervi informati costantemente su tutto ciò che riguarda il nostro amato club. Mercato, pre-post di ogni partita, interviste, ambito sponsor, ambito economico, ambito amministrativo. Tutto ciò che riguarda il nostro Milan noi ve lo riporteremo e lo porteremo fin dentro nelle vostre case. Basta attivare semplicemente il telefono e seguirci. Vi ricordo che abbiamo anche un sito internet, AC Milan Inside, il quale viene costantemente aggiornato da tutti i collaboratori che lavorano per AC Milan Inside. Notizie in continua evoluzione, in continuo aggiornamento e che vi faranno palpare quasi dal vivo l'area di Milanello. Vi riporteremo tutto ciò che ci arriva dalle fonti, tutto ciò che ci arriva da Milanello, tutto ciò che ci arriva dalla società. Sarà nostra premura essere sempre limpidi e chiari con voi, non vi prenderemo in giro, non faremo titoli a chiappa like. Saremo sempre il massimo della trasparenza e il massimo della lealtà, perché è solo così, è solo lavorando così che possiamo crescere e possiamo in un certo senso acquistare la vostra fiducia. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Seguiteci su tutti i profili social, vi lasciamo in descrizione tutti i link e arrivederci al prossimo video targato Milan Inside con tutti i nostri collaboratori e sempre Forza Milan ragazzi. Oggi più che mai, Forza Forza Forza.